E' una trappola. Ha nominato un lato della strada. Il problema è quale lato. C'è una freccia. Dice di andare a destra. O a sinistra. E' il fatto! Sei diversa dall'ultima volta. Certo, sono vestita. Attenta, ci prova sempre con le nuove. C'hanno avvertite? Era nel fascicolo della missione. Sotto potenziali pericoli. C'è un uomo! Un cadaver. Uno stronzo morto in un pozzo. Qualcuno ce l'ha buttato per contaminare l'acqua. Rimuovere un cadavere è illegale. Non prendo ordini da loro. Ciccione del cazzo. Hai una corda in macchina? Negativo, niente corda. Niente corda. Ma sto toccando. Ha detto di non toccare la merce. Ci serve una corda. Potrebbe andare peggio. Come potrebbe andare peggio? Se avessi rovinato il divano. Devo fare pipì. Nessuno si allontana. Ti serve una corda? Io so dove trovarla. Corda! Magari questo era il centro dell'industria balcanica di corde. Tutti le producevano in paese. Benvenuti nella capitale mondiale della corda. valuta. Grazie a tutti.